Trasporto scolastico bus pieni all'uscita degli studenti dagli istituti Covid, marche confermate in zona bianca, il primario di ginecologia interviene sui vaccini in gravidanza Partiti alla Vitrifrigo Arena, i campionati di ginnastica aerobica Carpegna prosciutto basket, Petrovic presenta la gara di Supercoppa contro Venezia Grazie a tutti Il nostro telegiornale Rossini News In apertura continuiamo a parlare di scuola perché a tre giorni dalla ripresa delle lezioni Si traccia un primo bilancio per il comparto dei trasporti Le problematiche maggiori come riferito da alcune segnalazioni di genitori e studenti Riguardano per lo più il sovraccarico dei bus negli orari di uscita dei ragazzi dai plessi scolastici Gli episodi si sono registrati soprattutto in alcune fermate lungo la strada statale adriatica In prossimità dell'istituto agrario e di quello alberghiero A tale situazione si è poi aggiunto nella giornata odierna il preannunciato sciopero nazionale dei mezzi pubblici Abbiamo parlato delle varie questioni con il direttore generale di Adriabus Massimo Benedetti Nella prossima intervista Oggi siamo più in tensione del solito perché sicuramente con l'adesione del sciopero Che io ritengo che ci sia abbastanza I numeri mi dicevano stamattina che sono intorno alle 15 unità stamattina su Pesaro Sicuramente metteranno un po' in crisi e in difficoltà il servizio a rientro E da noi abbiamo dieci giorni che abbiamo fatto uscire le comunicazioni Su questa comunicazione per questo sciopero Speriamo insomma di poterle in qualche modo riuscire a portare a casa più gente possibile Quest'anno in totale abbiamo in giro 311 autobus di varie dimensioni e capacità Altri ne stanno arrivando Le prime tre giornate siamo abbastanza soddisfatti Soprattutto perché quando si misuriamo alla nostra massima capacità Cioè che è l'orario di ingresso dove tutti i ragazzi viaggiano tutti contemporaneamente Riusciamo a garantire un servizio come normale che sia Non superando in nessun caso i limiti previsti dalle normative Qualche difficoltà ce l'abbiamo in alcune zone Nei servizi che sono all'uscita delle scuole e quindi di rientro a casa dei ragazzi Ma soprattutto perché gli istituti escono prima rispetto agli orari programmati Per cui noi abbiamo organizzato il servizio con gli orari definitivi Abbiamo rilevato nei primi due giorni la zona dell'istituto agrario Quindi Villa Caprile, ieri anche l'istituto alberghiero Siamo riusciti perché noi in realtà interveniamo con ulteriori mezzi eccetera Ma non ne abbiamo così tanti da poter fare un triplo servizio Perché paradossalmente ci sono degli autobus molto molto utilizzati O non sufficienti nella fascia oraria che va da mezzogiorno e mezzo a luna E gli autobus vuoti che girano alla fascia delle due classiche Insomma quella delle 13 e 45 Noi invitiamo a gran voce gli istituti a iniziare immediatamente la programmazione Con l'orario così come comunicato e così come programmato per un regime ordinario Capiamo anche i genitori, capiamo i ragazzi Per questo ripeto se riusciamo a mettere a punto anche l'ultimo pezzetto Che è quello proprio del regime degli orari definitivi Noi siamo convinti che possiamo procedere per il corso dell'anno scolastico con tutta la tranquillità Le linee quindi che hanno registrato più criticità in questi primi tre giorni quali sono state? Beh sono sempre quelle dove c'è una gran parte, un maggior numero di utenze Che sono le circolari destra e sinistra Un po' leggermente quella che va verso Romagna Ma fondamentalmente sono queste In seguito all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri È stata presentata ieri la nuova estensione del Green Pass a livello nazionale Il nuovo decreto conferma che dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre, giorno della scadenza dello stato d'emergenza La certificazione verde diventerà obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro Sia pubblici che privati, inclusi autonomi e collaboratori familiari I datori di lavoro dovranno definire entro la data in cui il decreto entrerà in vigore Le modalità attraverso le quali si attiveranno i controlli che potranno essere anche a campione Le sanzioni andranno dai 600 ai 1500 euro E dopo 5 giorni di ingresso al lavoro senza certificazione Sia nel pubblico che nel privato Lo stipendio sarà sospeso Non si potrà però in ogni caso arrivare al licenziamento Confermato dal provvedimento anche il prezzo calmirato dei tamponi rapidi 8 euro per i minorenni e 15 per i maggiorenni La cui validità per l'ottenimento della certificazione verde rimarrà valida per 48 ore Passerà 72 invece quella dei test molecolari Parliamo ora degli aggiornamenti quotidiani relativi ai contagi da Covid-19 sul territorio regionale Il bollettino del Servizio Sanità segnala che nelle ultime 24 ore Sui 3.118 tamponi analizzati, di cui 1.748 nel percorso nuove diagnosi Sono 105 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle Marche Di questi 29 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro e Urbino Sempre nelle ultime 24 ore è stato notificato a livello regionale un nuovo decesso legato al Covid-19 La vittima era residente nella provincia di Macerata Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità Ha inoltre confermato che per la prossima settimana le Marche rimarranno ancora in zona bianca E da qualche giorno l'attenzione della campagna di vaccinazione anti-Covid Si è focalizzata anche a livello nazionale sul tema delle donne in gravidanza È recente la notizia della giovane ragazza che è positiva al virus e senza copertura vaccinale Le cui condizioni di salute si sono aggravate a causa della polmonite generata dal Covid-19 È stata sottoposta ad un parto d'urgenza proprio all'ospedale di Pesaro Che da diversi mesi è diventato punto di riferimento regionale per le donne in dolce attesa e positive al virus Il primario di ginecologia di Marche Nord, il dottor Claudio Cicoli Ha quindi sottolineato nella prossima intervista l'importanza della vaccinazione anche durante la gravidanza Vediamo Noi siamo come punto nascita il centro di riferimento per tutte le donne Covid della regione Marche Questo dal luglio del 2020 per una circolare della regione Marche E da allora noi abbiamo assistito a tutt'oggi 44 donne affette da Covid In tutte le condizioni sono nati bimbi vivi e vitali Inoltre durante il percorso della gravidanza nei nove mesi Quindi se la donna viene in contra e si ammala di coronavirus Può farsi seguire la gravidanza presso la nostra struttura Secondo noi la situazione rispetto all'anno scorso è peggiorata Peggiorata perché? Perché noi ricordiamo che l'anno scorso durante l'estate, a fine estate Noi abbiamo avuto un solo ricovero Noi quest'anno da gennaio ad oggi Noi costantemente abbiamo sempre una o due donne ricoverate nel centro Covid regionale Questo sta a significare che l'infezione praticamente non ha più avuto i picchi Come uno scorso, no pre-estivi e post-estivi come seconda ondata Ma c'è una costante della malattia da gennaio ad oggi Noi tre giorni fa abbiamo avuto una mamma che veniva da Marotta E' sopraggiunta con un'insufficienza respiratoria alla trentasettesima settimana E' stata ricoverata presso la terapia semi-intensiva Ed è stata trattata con alti flussi di ossigeno Perché non riusciva a respirare autonomamente Nei due giorni di ricovero La situazione respiratoria proprio per la condizione della gravidanza Che la presenza dell'utero grande ostacolava il movimento del diaframma Si è ricorsi al taglio cesario Perché la polmonite intestiziale che era sopraggiunta Per effetto dell'infezione da coronavirus Praticamente aveva peggiorato il quadro respiratorio Per cui si è ricorsi urgentemente al taglio cesario Dove è nata fortunatamente una bimba di 2,780 kg Che ha pianto subito, quindi viva e vitale Per la gioia di tutti noi Però purtroppo la mamma è stata trasferita in rianimazione Perché la situazione respiratoria praticamente destava preoccupazione Dopo due giorni la donna è ancora in terapia intensiva No, in terapia intensiva, in rianimazione Perché necessita di assistenza respiratoria con alti flussi di ossigeno E perché la polmonite intestiziale tipica del coronavirus Può avere anche un esito sfavorevole Con il covid purtroppo si muore in gravidanza E diciamo che l'Associazione Nazionale dei Ginecologi Che è il nostro punto di riferimento scientifico Ci raccomanda di passare l'informazione Che le donne durante la gravidanza devono essere vaccinate Già dal primo trimestre E poi anche durante l'allattamento Perché i vantaggi che si possono avere da una vaccinazione Sono ma molto, molto, molto di più Rispetto agli avventi avversi di una comune vaccinazione E ora cambiamo completamente argomento Un'esperienza immersiva tra il Parco San Bartolo E i fondali marini del Parco del Conero Per finire poi con una simulazione della volta celeste È il viaggio digitale a cui si potrà assistere All'interno del planetario Argo Progetto del Museo del Bali Che da oggi e fino alla fine del mese Sarà a Pesaro nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca Sarà fruibile al pubblico dal 17 al 30 settembre Nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca Il planetario Argo Un'attenso struttura mobile itinerante All'interno della quale sarà possibile godere Di uno spettacolo immersivo Tra le meraviglie dei parchi San Bartolo e del Conero Il progetto, ideato dal Museo del Bali E finanziato attraverso il Fondo Europeo FESR 2014-2020 Arriva in città per la sua prima uscita ufficiale Grazie alla collaborazione con il Comune di Pesaro E al patrocinio del Parco San Bartolo La cupola, con un diametro di 7 metri E che avvolgerà il pubblico a 360 gradi Permetterà agli spettatori di godere di un viaggio virtuale Che dai fondali marini Si sposterà poi in tutto il territorio circostante Fino alla volta celeste Chiaramente molti di voi conoscono il Museo del Bali Che ha la possibilità, diciamo, attraverso Le postazioni interattive di divulgare la cultura scientifica Al territorio, alle famiglie e agli studenti Oltre alle postazioni scientifiche Il Museo del Bali ha l'osservatorio Con cui si possono mirare, diciamo, i corpi celesti Ma una delle caratteristiche principali E molto apprezzate È il planetario del Museo del Bali E per questo si è voluto pensare di poterlo rendere itinerante Attraverso un progetto Che con un bando regionale Che ci ha permesso di ottenere dei fondi europei E acquistare le attrezzature Per poter, come dire, andare sulla costa E divulgare la cultura scientifica Anche in modo itinerante Diciamo rispetto a quello che è La caratteristica del planetario del museo Che tendenzialmente è legato ai corpi celesti Proprio perché la tradizione è quella di un planetario astronomico Il planetario itinerante invece Oltre a una parte, diciamo, simile a quella del museo Ha invece altri contenuti Legati principalmente alla costa Quindi al Monte San Bartolo E anche al Parco del Conero Siamo molto lieti di questa opportunità Di questa collaborazione Che una realtà importantissima a livello nazionale Come il Museo del Belì Ha deciso di mettere a disposizione Tutto il territorio marchigiano Con un tour che inizia in questi giorni E che parte appunto da Pesaro La cosa ci fa molto piacere In questa connessione nell'area di Palazzo Mazzolari Quindi diciamo Il palazzo gemello, tra virgolette, dei musei civici Un'opportunità per i cittadini Innanzitutto per le scuole che iniziano E anche per i turisti che sono ancora in città Per conoscere più da vicino Una realtà appunto importantissima Come il Museo del Belì Con un progetto di un globo itinerante Che con dei contenuti video Ad altissimo impatto Ci porteranno un tema Sotto il nome di Argo Molto importante Passando tra due grandi parchi Il Parco del San Bartolo E il Parco del Conero In un'osservazione di quelli che sono I temi ambientali legati alla costa E i fondali marini Quindi pensiamo che appunto A pochi metri anche dell'opportunità Della sonosfera Che in maniera più globale Racconta il tema In questo momento Del riscaldamento globale Dei rischi connessi E anche della conservazione degli habitat Delle specie via di estinzione Possa essere un pacchetto Probabilmente unico in Italia In questo momento Dal punto di vista dell'interesse Dell'innovazione tecnologica E anche diciamo Della credibilità Degli enti che lo propongono Sarà possibile accedere Al planetario Argo Tutti i giorni Dalle 15.30 Alle 19.30 Obbligatoria la prenotazione Che si potrà effettuare Sul sito www.museodelbali.it Sempre online Allo stesso indirizzo Sarà possibile Acquistare i biglietti Che consentiranno L'ingresso gratuito Al circuito Pesaro Musei Oppure alla sonosfera E sono in arrivo Circa 5 milioni di euro Per la messa in sicurezza Degli edifici Del territorio Ad annunciarlo Sono stati Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci E l'assessore all'operatività Enzo Belloni 3 milioni Saranno destinati Ai lavori di manutenzione Straordinaria Per la messa in sicurezza Del cavalca ferrovia Di via Montegrappa Altri 440 mila euro Andranno invece Agli interventi Di manutenzione straordinaria Per la messa in sicurezza Del ponte In strada del Foglia Mentre quasi un milione di euro Sarà destinato alle scuole Nello specifico Un contributo di 600 mila euro Sarà destinato Al plesso di via Fermi E uno di 380 Quello di Borgo Santa Maria In via Montebianco E ci spostiamo ora a Fano Perché fiori Musica e cultura Saranno gli ingredienti Dell'edizione 2021 Di Fano Fiorisce In programma Il 24, 25 e 26 settembre Nel centro storico Della città della fortuna A partecipare Saranno più di 25 Florovivaisti Che animeranno Il Pincio di Fano La mostra a mercato Dei Florovivaisti Sarà inoltre accompagnata Dai concerti Dell'orchestra Sinfonica Rossini E domani Sabato 18 settembre Alle 17 In via Lambro 15 In zona Vismara Verrà inaugurata La nuova sede Di Fisoradi Medical Center Presenti le principali Autorità politiche E sportive La struttura Diretta da Maurizio Radi Di circa 1200 metri Quadrati Rappresenta un esempio Di recupero E riuso edilizio Attraverso la ristrutturazione Di un ex capannone artigianale In stato di abbandono Ed è stato un botte risposta Ironico e social Quello dei due sindaci Di Pesaro e Fano Matteo Ricci E Massimo Seri All'origine Della conversazione Intercorsa tra i due La vittoria del pesarese Nicolas Vincenzetti Gestore del Vins Cafè Nel concorso nazionale Che all'interno Del Brodetto Fest Premiava la realizzazione Del miglior cocktail Ispirato alla Moretta Fanese Alle congratulazioni E ai complimenti Espressi su Facebook Da Ricci Al concittadino Ha fatto ecco La scherzosa replica Scritta sempre sui social Da seri Il quale Evidenziando La rivisitazione Della ricetta Vincitrice Del concorso Ha invitato Il sindaco di Pesaro Nella città della fortuna Per degustare La storica bevanda fanese Nella sua forma Originale E tradizionale E sarà una vera e propria impresa Quella del sindaco Di Monbarocce Emanuele Petrucci Che martedì Partirà in bicicletta Dal santuario Del Beato Sante Per arrivare Fino a Farkirken In Germania Un viaggio Per commemorare Il ricordo Di Eric Eder Comandante tedesco Che nel 44 Salvò numerose famiglie Ebrei Proprio Monbaroccio Il servizio Ed Edoardo Razzi Partirà martedì 21 settembre Alle 6 del mattino Dal santuario Del Beato Sante Il percorso In bicicletta Che il sindaco Di Monbaroccio Emanuele Petrucci Intraprenderà Per recarsi A Farkirken In Germania Un viaggio Commemorativo Di tre giorni Per ricordare Eric Eder L'ufficiale tedesco Che nel 1944 Decise di non deportare Intere famiglie Di ebrei Che si nascondevano Nel santuario Francescano Alla presentazione Dell'impresa Avvenuta questa mattina Presso il giardino Di Palazzo del Monte Erano presenti Anche tutti gli studenti Dell'istituto Pirandello Il sindaco Petrucci Si è poi spostato In bici Al Beato Sante Dove lo attendeva Padre Alvaro Che oltre alla benedizione Ha consegnato Al primo cittadino Una reliquie Del santuario Destinata Al comune Di Farkirken L'iniziativa è nata Quando ho ritirato Questa pergamena Al museo dei giusti A Milano Quando ho avuto modo Di avere l'onoro Di conoscere La senatrice Segre E abbiamo ricordato I grossi valori Che erano stati apportati Dall'ufficiale Allora Eder A Monbaroccio Che nel 1944 Salvò tanti Monbaroccesi E la famiglia Sarano Nonché altri ebrei Nelle grotte Del Beato Sante Quando L'ufficiale Eder Allora fece il voto Al Beato Sante Nel 1953 Decise di tornare A Monbaroccio In segno di scioglimento Di quel voto Allora mi sono chiesto Come fece il percorso Nel momento in cui La senatrice Mi ha dato questo documento Io ho deciso Di rifare lo stesso percorso In segno di gratitudine Di rispetto Per quello che fece Il generale Eder Allora L'ufficiale Eder Perdonate Allora E nel riconoscimento Anche dei valori Delle scuole Che sono qui con me Perché comunque Sono oggetto Predominante Del percorso Perché la memoria Che allora Eder ci lasciò E' giusto tramandarla Alle scuole Le quali dovranno Tramandarla Alle generazioni future Pertanto è nato Tutto da questo E abbiamo deciso Come Monbaroccio Insieme di gratitudine Alla famiglia Alla città di Farkirken Dove arriverò E a tutto quello Che fece Eder allora Di riconoscerglielo Con questo piccolo gesto Pertanto partirò Per la Germania Farò lo stesso tragitto Che alternanza Bicicletta Treno Per poi arrivare a Farkirken Nell'inizio Della prossima settimana Quanti chilometri saranno Lo percorrerà da solo Il percorso sarà In solitario Assolutamente sì Sono percorso In bicicletta Che dovrebbe essere Intorno ai 300-400 km In bicicletta Alternati a quelli Su rotaia Come fece a lui A suo tempo Lo ripeterò Allo stesso modo I ragazzi sono L'oggetto predominante I protagonisti Sebbene se io Indossare la fascia Con me vengono loro E vengono tutti I cittadini di Monbaroccio Con questa pedalata Sarà anche oggetto Di rilancio Della quarta edizione Del premio Luci nel Buio Dove i ragazzi Sono parte della giuria E avranno modo Di valutare tutti gli elaborati Che arriveranno Come sono arrivati In questi ultimi Due o tre anni Da tutte le parti d'Italia E dico la verità In un periodo di Covid Con tutte le difficoltà Che ci sono state Le scuole Sono sempre dimostrate Collaborative e attive Anche in una didattica Che non è quella ordinaria Ma che diventa straordinaria Come la pedalata Che andremo a fare Sostanzialmente E sono partiti Questo pomeriggio I campionati europei Di ginnastica aerobica In programma Alla Vitrifrigo Arena Dal 17 al 20 settembre A dare il via Le competizioni È stata la cerimonia D'apertura Di questo pomeriggio A cui hanno presenziato Le farfalle Della squadra nazionale Italiana di ritmica Medaglie di bronzo Ai giochi olimpionici Di Tokyo Sempre alla Vitrifrigo Arena Si terrà anche La rassegna Continentale Di acrobatica Che andrà avanti Fino al prossimo 3 ottobre Il servizio È di Antonio Astuti Pesaro sarà protagonista Per le prossime Tre settimane Di una manifestazione Di ginnastica Veramente straordinaria Sono i campionati europei Di ginnastica Aerobica E acrobatica Che si svolgeranno Alla Vitrifrigo Arena Partendo da oggi Da domani Oggi ci sarà la manifestazione Con la cerimonia inaugurale Della prima settimana Tantissime persone Sono nella nostra città Nella città di Pesaro Per partecipare E seguire Le gare Proprio tantissimi giovani Abbiamo visto Frotte di ragazzi Giovanissimi Prevenenti da tutta Europa Che già stanno Sono ospitate Nella nostra città È una forte volontà Di ripartenza È stato detto Anche proprio Da tutti coloro Che hanno partecipato Alla affollatissima Conferenza stampa Di presentazione Una grandissima occasione Per confermare Il buon trend Del turismo Che già abbiamo visto Quest'estate Nella città di Pesaro E che sicuramente Con questo evento Avrà un rafforzamento Ancora maggiore Perché davvero C'è una grandissima voglia Di ripartire Sicuramente Siamo contenti Di essere a Pesaro È una località ideale Pesaro È molto buona Per questa manifestazione Ma non solo Pesaro Tutte le Marche Siamo già stati Nelle Marche Quattro anni fa Per una grande manifestazione Ad Ancona Abbiamo potuto vedere L'efficienza della regione Tutte le persone Che si danno da fare Per questa manifestazione Stanno lavorando molto bene Siamo molto contenti Di essere qui Sicuramente Sarà una bellissima Possibilità Di far vedere La ginnastica Abbiamo Dell'impiantistica Eccezionale Nelle Marche Possiamo portare Tanta gente E quindi Un indotto importante Anche per il turismo Per il commercio Qui abbiamo delle strutture Importanti Qui puoi svolgere Un campionato del mondo Senza battere ciglio E questo È un ritorno Per la città Per il turismo Per il commercio Per tutto Veramente Di qualità Di qualità È un evento Che ha visto La collaborazione Di tanti soggetti Quindi a partire Dall'Unione Europea Di Ginnastica La Federazione Ginnastica D'Italia Al CONI Alla Regione Marche Ma anche a livello locale I nostri istituti scolastici Hanno messo a disposizione Competenze Professionalità E i studenti Poi abbiamo Delle associazioni Di volontariato Che presidieranno I vari punti Quindi aiuteranno E aglieteranno Quello che saranno Diciamo È un evento Di grande prestigio E siamo contenti Di poterlo ospitare In quella che è Una delle strutture Più belle d'Italia Che è la Vitri Frigo Arena Siamo al Spazio Del Palazzo Gradari Dove Esatur Poi ha organizzato Un piccolo ricevimento Con tutti coloro Che hanno contribuito All'impostazione All'organizzazione Di questa manifestazione Tanto importante Per Pesaro Oggi pomeriggio Ci saranno Le farfalle Alla Vitri Frigo Arena La prima Delle tre cerimonie Inaugurali Perché ogni settimana Sarà un evento A se stante E ogni settimana Ci sarà Una cerimonia inaugurale Oggi pomeriggio Saranno presente Le farfalle Quindi a dare Ulteriore lustro A questa manifestazione E a questo Importantissimo appuntamento Per la ginnastica europea Che si svolge Nella città di Pesaro Non è la prima volta Che collaboriamo Con la federazione Di ginnastica europea Nel 2017 Già organizziamo Per conto Appunto Della European Gymnastics I campionati europei Sempre di aerobica Ad Ancona Mentre nel 2018 Qui a Pesaro Fu protagonista Alla Golden Age Gym Festival Sempre organizzata Appunto Per la federazione Ginnastica d'Italia E europea Quindi non è la prima volta Che Esa Tour Si pone accanto Alla grande famiglia Della ginnastica europea Nell'organizzazione Di grandi eventi Internazionali Allora globalmente Per i 21 giorni Abbiamo 1500 atleti Divisi in 32 delegazioni Prevenienti da tutta Europa Questi 1500 Poi vanno moltiplicati Per i 7 giorni Che restano qui a Pesaro Per cui lascio Ai telespettatori Il conto Delle presenze turistiche Che si sommano Nell'arco di questi 21 giorni È la prima competizione Della federazione Ginnastica d'Europa A riaprire al pubblico Questo ci tengo a dirlo Sono in vendita I biglietti Per chi volesse Procurarseli È sufficiente andare Su www.vivaticket.com E sono disponibili Biglietti giornalieri Per ogni competizione Nonché Apriamo On site Cioè sul posto La biglietteria E questo è anche Un'altra Grande novità Per cui invitiamo Tutto il pubblico Di Pesaro Della provincia di Pesaro Della regione Marche Visto che Rossini Si vede in tutta La regione Marche Ad accorrere Alla vitrifrigo arena In questi giorni Proconandosi Il biglietto d'ingresso E in chiusura Parliamo di basket Perché si è tenuta Questa mattina Al VL Point Prodi Sport Pesaro La conferenza stampa Del coach Della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Aza Petrovic In presentazione Della partita Di Supercoppa italiana Che vedrà La formazione Pesarese Scendere in campo Domani alle ore 12 A Bologna Contro Venezia Nell'occasione Sono state presentate Anche le nuove divise Da gioco ufficiali Che accompagneranno La VL Per l'intera stagione Il calendario dice Che abbiamo passato Da 18 agosto Adesso sono 29 giorni 30 giorni Insieme Però la verità È totalmente diversa Adesso Quando siamo ritornati Dopo quel torneo In Brindisi Per prima volta La squadra È stata completa E per prima volta Questa settimana Abbiamo svolto Il lavoro Che si dovrebbe fare Tre settimane Quattro settimane fa Perché a montagna Abbiamo avuto Sei o sette giocatori Primi di otto giorni Non è stato Camara Non è stato Davide Moretti E non è stato Tyreek Jones Con sei o sette giocatori Con due o tre Non si poteva fare Tante cose Per questo Ho scelto Entrare in Precampionato Chiamiamo così Con tante Tante gare Tanti 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 giochi Per sostituire Quelli Allianamenti Al principio Quando siamo stati Freschi Tutto è andato bene Tutta la Tutta la settimana Abbiamo lavorato tanto Siamo migliorati Individualmente Come Collettivamente E Esclosivamente Solo ieri Abbiamo toccato La Questione Di Venezia Per questo In quello momento Siamo orientati Più di noi Che per Quell' Opponente Che si chiama Rear Venezia Io voglio vedere La risposta Domani Di Pesaro Non mi importa Tanto Sì Sono conoscente Che giochiamo Contro la squadra Che può essere Terza o Quarta forza Di questo Campionato Dopo Di Malano E dopo Virtus Bologna Io voglio vedere La reazione La nostra squadra Questa è la nostra squadra Non è mia squadra La nostra squadra E voglio vedere Le reazioni In tutti i sensi Individualmente Collettivamente Anche ieri Abbiamo parlato Su cose specifiche Del Rear E voglio vedere Una partita Con più Minuti Da tutte le parti Migliori Che Abbiamo fatto Ultime due Tre Partite In questo Precampionato La partnership Con il Rear E Prodi Sport Ormai Siamo il nonno anno Quest'anno Ne abbiamo davanti Altri quattro E' importante La fiducia Che Ario E la società VL Ci abbia dato Perché noi Quando ci sono Questi contratti Così lunghi Ci sono Questi matrimoni Lunghi Vuol dire che le cose Funzionano Quindi siamo veramente Contenti E li ringraziamo Per la fiducia Che ci hanno E che ci stanno Dando tuttora Quest'anno abbiamo Inserito La parte del piping Laterale Sia su maglia Che pantalone Che in modo Che sia Continuativa In movimento Ci sono le tre Scritte principali VL Pesero Pesero E Pesero Basket Le abbiamo applicate In diversi stili E diverse grafiche Andando a ricercare Quello che è stato Utilizzato Dalla vecchia Vittoria Libertas Fino ad oggi Secondo me E' una cosa Che caratterizza Molto la maglia E come ho detto Oggi in presentazione La rossa Avrà un piping Più marcato La maglia Dovrebbe essere Disponibile Spero Perché ci sono Diversi ritardi Adesso con le consegne Delle aziende Speriamo per la prima Partita in casa Del 6 Dovremmo già essere Pronti con I nostri shop To shop All'interno Della vitrifrigo arena Le taglie disponibili Saranno dal bambino Di 6 anni Fino alla triple XL Saranno personalizzabili Potremo applicare Sia il nome e il numero Del giocatore Sia il nome e il numero Del cliente Quindi se un cliente Ha una richiesta particolare Una scritta Qualsiasi cosa E questa era l'ultima notizia Per questa edizione Del nostro telegiornale Vi ricordiamo ora Gli altri appuntamenti Che potrete seguire Su Rossini TV A partire da Questa sera Alle 21.20 Con lo speciale Dedicato al racconto Del Brodetto Fest Il festival Del brodetto E delle zuppe Di pesce In onda Questa sera Su Rossini TV Alle 21.20 L'informazione Torna poi puntuale Domani mattina In diretta Alle 7.20 Con la nostra Rassegna stampa Buongiorno Rossini Alla conduzione Ci sarà Antonio Stuti E vi ricordiamo invece Che l'informazione Del nostro telegiornale Rossini News A partire dalla prossima settimana Da lunedì 20 settembre Torna con la sua prima edizione Alle 19.40 Confermate poi le repliche Alle 20.40 Alle 23.30 A mezzanotte e mezza E poi il giorno seguente Alle 6.45 Nella mattinata Alle 13.15 E alle 14.45 E torna puntuale Nella fine settimana Anche l'appuntamento Con Wine & Luxury La nuova puntata Andrà in onda In prima visione Sabato alle ore 19 E poi le repliche Domenica alle 13.30 Alle 21 Lunedì alle 14.30 E martedì alle 22 Grazie per averci seguito In questa edizione Del nostro telegiornale Un buon proseguimento Di serata Su Rossini TV